Parte a Taranto un nuovo cantiere, sono stati infatti avviati i lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili. Sopra il luogo del sindaco Rinaldo Melucci in via Liguria, particolare attenzione è stata riservata alla cosiddetta pedonalizzazione della zona, un'arteria importante soprattutto dal punto di vista commerciale per l'intero capologo ionico. Obiettivo, ha detto il primo cittadino, è quello di ridare smalto alla praticabilità della zona, anche grazie a soluzioni individuate dopo una serie di incontri avuti con le associazioni di categoria dei commercianti. Parte quindi un nuovo cantiere, un'opera, ha detto Melucci, che intende essere propedeutica all'arrivo delle BRT, ovvero i bus elettrici, che cominceranno a circolare a Taranto tra un paio di anni, verso un contesto di mobilità sostenibile che rappresenta il percorso ormai da tempo avviato dall'amministrazione comunale di Taranto.